Per parte della giuria del Silent Book Contest quest'anno, in quanto vincitrice, è stata una cosa grandissima per me, una grande responsabilità e una fortissima emozione. Mi è sembrato proprio di rivivere quei momenti, anche perché i progetti che arrivano al Silent Book Contest sono di altissimo livello e arrivano da tutto il mondo. Quindi io sapevo, avendo provato, avendo vissuto questo concorso, la difficoltà che c'è nell'esprimere dei temi anche importanti nostri attraverso solo immagini. E quindi sapevo il lavoro immenso che c'era dietro ogni progetto arrivato. Quindi ho sentito intanto questa grande responsabilità di avere uno sguardo giusto, uno sguardo attento, affettuoso su tutti i progetti, che comunque sono parte della vita di chi li ha spediti. E quindi so quanto questo sia intenso e profondo. Poi la giuria era splendida, quindi è stata anche una bella condivisione. La cosa più interessante per me è stata osservare i vari linguaggi, essendo appunto progetti provenienti da tutto il mondo, i vari linguaggi, le varie lingue silenziose. Quindi ecco, è stata un'esperienza meravigliosa e ringrazio tutti per questo.